Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6 Inizio di settimana, ancora una volta dominato dall'anticiclone nord-africano Che regalerà una giornata stabile su quasi tutto lo stivale E ancora temperature troppo alte per il periodo Con picchi di 40-41 gradi nelle aree interne del centro e del nord Qualche temporale possibile al nord-ovest e lungo l'arco alpino Per infiltrazioni più instabili, più secche alle altissime quote Che entreranno in contrasto con l'umidità e il caldo presente nei bassi strati In Abruzzo, inizio di settimana con pochissime variazioni in realtà Rispetto agli ultimi giorni, tanto sole ovunque Qualche annuvolamento come ridiano in montagna Non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi Temperature senza grandi variazioni Le massime fino a 37-38 gradi nei settori interni Sia a bassa quota ma anche in montagna Comunque farà particolarmente caldo Le minime tra i 22 e i 28 Localmente anche 29 gradi sui tratti costieri Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci al prossimo appuntamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti